A lui basta solo rimanere lì, appoggiato sulla manina, agli occhi chiusi, agli occhi chiusi. A lui ti rimane lì per ore, appoggiato sulla manina, guardate che meraviglia, è lì appoggiato, non ti piace, non si muove. A lui piace appoggiarsi sulla mano e ti sta lì, minuti, 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 minuti. E' un amore. Guardatelo, guardatelo, ho gli occhietti chiusi. Bello, Gesù, non è mio. Guardate, è lì. Starebbe lì, va? Guardate, non si sposta da lì. Guardate, 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 guard